La prima è che la comunicazione non ammette ignoranza, punto. Qui, come rimedia una cosa del genere? Come rimedi quando nasce una community su Facebook che si chiama Banco Coca-Cola, che non ricordo quanti membri ha, e fate conto che Facebook non è la community di riferimento per la Russia, è di contact quella per la Russia, quindi sono arrivati fino a Facebook. Su Twitter, se provi a twittare qualcosa, ti surclassano con questo hashtag qui. Quando vai su Google Immagini e cerchi Coca-Cola in Russia, ritrovi le campagne che si oppongono al consumismo. Hai ottenuto odio, ti è andato dell'ignorante e ti disprezzano. Puoi mai rimediare sui social? Più che scusarti, cosa che hanno fatto? Più che tentare con un'altra campagna? Questo è il momento in cui alzi le mani e dici ragazzi, è qualcosa, riporto comunicazione su che non è andato, stiamo un po' tranquilli, questo non lo potrete mai risolvere con i social.